Questi non sono i nostri uomini e intanto voi siete lontanissimi dall'identificare i due che cerchiamo davvero. Dobbiamo diffondere quelle foto. Se le diffondiamo non avremo nessun controllo. Se calchiamo la mano potremmo costringere quei due a reagire. Scusate, se posso dire, Boston ancora non è al nostro fianco. È normale, nessuno di solito fa la spia. Ma qui è diverso, perché a Boston, se si tratta di terrorismo, parlano tutti. Sui giornali stanno parlando delle persone sbagliate. Diffondete quelle foto, aspettate e fidatevi. Lasciamo che Boston lavori per noi, ragazzi. Io capisco che Boston... Ma non posso schioccare le dita ed è fatta. La decisione la prende il procuratore generale. Allora dammi il suo numero, lo chiamo io. Questa è la mia città, Rick. Diffondi quelle cazzo di foto.